Pronti? 1, 2, 3, via! 1, 2, 3, su! Base! Orologio! Base! Indietro 2! Indietro 1! Base! Preparo la rueda! Annoda! Annoda! Sotto! Via! 1, 2, 3, 4, 5, base! 1, 2, 3, su! Ancora base! Giro ballerina! Base! Giro tutti e due! Base! Preparo la rueda! Annoda! Annoda! Sotto! Via! 1, 2, 3, 4, 5, base! 1, 2, 3, su! Ancora base! Indietro 2! Torno! Indietro 1! Base! Preparo la rueda! Annozio! 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 Sotto! Via! 1, 2, 3, 4, 5, base! Annozio! 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 1, 2, 3 giro ballerina base, preparo la rueda annoda annoda sotto via 1, 2, 3, 4, 5 base giro ballerina base sulle mani merengue, arrotola arrotola giro e rigiro base, preparo la rueda annoda annoda via 1, 2, 3, 4, 5 base 1, 2, 3, su base giro ballerina la mano finale ole go 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 go